come faceva giulio paolini a sapere che anche a me non bastano mai gli spazi dove sto voglio sempre sfondarli proseguirli andare oltre cercarne degli altri al di là e sono questi spazi stessi che mi danno l'illusione con la prospettiva che ci sia qualcosa che prosegue che sfonda che va oltre come faceva a sapere che cerco sempre un senso inscatolato qualcosa che viene messo in mostra che deve essere sotto i riflettori valorizzato e anche quando non c'è niente io ci trovo qualcosa di significativo perché questo voglio questo desidero e mi trovo di fronte al mio stesso desiderio di senso come fa quest'opera d'arte a conoscermi così bene